state schiacciando l'acceleratore a tavoletta ma la vostra automobile non accelera cosa è successo forse il motore si è rotto no ragazzi semplicemente è arrivato un nuovo sistema di sicurezza isa ebbene si alla fine è successo dallo scorso 6 luglio è entrata in vigore una nuova legge europea che obbliga tutti i produttori di automobili nell'implementare entro il 2024 un nuovo sistema di sicurezza ovvero il limitatore di velocità automatico intelligente acronimo isa il suo funzionamento è estremamente semplice ve lo mostro in modo pratico infatti tutte le auto moderne sono dotate di una telecamera possa solitamente qui nella parte anteriore come la mia oppure incapsulata nello specchietto retrovisore questa telecamera serve per calcolare la distanza tra noi e il veicolo che ci precede può essere un'automobile una moto una bici serve anche per controllare per metterci in guardia su eventuali ostacoli e riesce anche a leggere i segnali stradali persino la mia peugeot 208 vi faccio vedere il quadro frontale ha un piccolo simbolino che va a leggere la velocità massima indicata dai cartelli stradali ora sono fermo quindi non è indicato nulla ma se ad esempio mi trovassi su un'autostrada indicherebbe 130 km orari sulla tangenziale 110 90 in città 50 30 e così via ora la lettura dei segnali stradali è una tecnologia che comunque presente già da un po di anni e funziona in modo passivo si limita solitamente solo nel leggere i cartelli indicandoci la velocità massima e in caso dovessimo superarla l'indicatore diventa rosso ma finisce lì dal 2024 questa tecnologia riceverà uno step evolutivo abbastanza importante infatti oltre a indicarci la velocità massima sul quadro strumenti sul computer di bordo cosa farà beh in caso noi superassimo la velocità massima un cicalino una speaker nella nostra automobile inizierà a emettere un suono un po come quello della cintura e in caso dovessimo continuare a viaggiare sopra i limiti di velocità poniamo caso i 110 km orari l'automobile inizierà a rallentare in modo autonomo fino a farci rientrare nei ranghi nei limiti di velocità e ragazzi questo è pensato ovviamente per la sicurezza tanti incidenti sono dovuti a eccesso di velocità gente che se ne frega dei limiti quindi va sparata in dangenziale in autostrada ma anche in città e quindi io potrei essere anche favorevole ma ci sono dei problemi che spero vengano risolti ad esempio la mia peugeot 208 un'auto moderna l'ho acquistata l'anno scorso è in grado di leggere molto bene i segnali stradali i limiti di velocità e riportarli sul quadro strumenti ma succede spesso che a causa delle nostre strade che sono gestite un po non serve che ve lo dica lo sapete benissimo un po così beh capita che ad esempio in tangenziale sono sui 90 o 110 km orari in base al limite di velocità di quel tratto stradale e sulla complanare subito di fianco ci sia un indicatore di velocità massima un cartello stradale che indica una velocità molto inferiore di 30 o 50 km orari questi cartelli sono quasi sovrapposti tra loro è il il computer di bordo va praticamente in tilt e mi capita spesso che mi indichi ad esempio 50 o 30 km orari di velocità massima su una strada su cui in realtà la velocità massima è di 110 km orari quindi capite bene cosa potrebbe succedere auto che rallentano all'improvviso e invece di favorire la sicurezza si favorisce magari un possibile incidente con tamponamenti c'è da dire che questo sistema isa sarà facoltativo all'inizio potrà essere disabilitato dal conducente dell'automobile ma si sono già messi le mani avanti dicendo che questo sistema in futuro molto probabilmente non sarà più disattivabile quindi spero che la gestione delle nostre strade compresa quindi l'installazione dei cartelli con i limiti stradali sia fatta in modo più accurato e intelligente altri due limiti di questa tecnologia che mi vengono in mente sono i sorpassi ok è vero che non dovremmo superare il limite di velocità nemmeno nei sorpassi ma può capitare che magari la macchina davanti a noi la vettura sia viaggi a magari due tre chilometri orari sotto il limite di velocità e noi per superarla quindi impiegheremo minuti interi e non è il massimo è un altro punto che mi lascia molto perplesso e su cui bisogna lavorare molto con questa tecnologia sono le emergenze perché ragazzi può succedere a tutti spero di no ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso ma che qualcuno nella nostra automobile si senta male e quindi noi dobbiamo superare per qualche minuto i limiti di velocità per permettere delle cure immediate a questa persona cosa succederebbe con i limiti di velocità obbligatori elettronici intelligenti beh noi siamo inchiodati al limite di quella strada e secondo me non è il massimo anche qui c'è la sicurezza da una parte ma ci sono altri problemi anche più gravi dall'altra e bisogna sempre cercare di bilanciare le cose bene ragazzi e questo è isa un nuovo sistema di sicurezza intelligente per le nostre automobili io personalmente da una parte lo approvo perché c'è tantissima gente che purtroppo usa le strade come fossero una pista di formula 1 ma dall'altra parte vi ho già elencato tutte le criticità su cui bisogna lavorare per rendere efficiente questo sistema dato che questo è un sistema di sicurezza tecnologico abbastanza avanzato mi sembrava giusto parlarvene ma ora voglio sapere la vostra opinione cosa ne pensate di questo limitatore di velocità automatico intelligente lo trovate intelligente oppure no secondo voi creerà pericoli o sarà una una giusta soluzione per la sicurezza stradale beh parliamo insieme qui sotto nei commenti se volete qui sotto in descrizione video vi lascio un po di link di alcuni prodotti per auto che vi consiglio il link per il mio cane telegram dell'offerta che messia il suo pubblico giornalmente offerte tecnologiche ma riguardanti anche prodotti per auto non solo per la pulizia ma anche dash cam pompe per gonfiare le gomme insomma tanta roba il mio gruppo facebook entrato numerosi vi aspetto e se questo video vi piaciuto potete supportarmi con un like è una condivisione e se volete magari iscrivetevi anche al canale il consiglio che posso darvi è che va bene la tecnologia va bene tutti i sistemi di sicurezza ma la cosa più importante da accendere quando ci mettiamo alla guida è questo il nostro cervello cerchiamo di guidare sempre con il cervello acceso perché questi sistemi di sicurezza si sono importanti ci aiutano ma se noi guidassimo per bene rispettando i limiti stradali senza esagerare senza mettere in pericolo noi o altre persone beh forse oggi non saremmo arrivati a questo punto vabbè amici questo è tutto alla prossima ciao belli e buona guida grazie a tutti Grazie a tutti.